5 e 8 mezzi per la raccolta dei rifiuti sono stati distrutti dalle fiamme nella notte tra sabato e domenica a Canicatì. Il rogo è avvenuto in contrada Giuliana in uno dei capannoni del raccorpamento temporaneo di imprese SEA, Iseida e Vecoin che a Canicatì dal 10 settembre 2018 gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigi del fuoco a conferma della consistenza del rogo. I pompieri hanno lavorato per tre ore circa, dall'una alle quattro. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini. L'allarme era stato lanciato da automobilisti di passaggio. I soccorritori sono riusciti in tempo ad allontanare altri veicoli nella zona del rogo. Le telecamere di videosorveglianza avrebbero ripreso delle persone con dei bidoni in mano all'interno del deposito dei mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti. Adesso saranno le indagini degli organi inquirenti a far chiarezza su quanto accaduto. L'ipotesi dell'origine accidentale del rogo non è credibile. Quest'ultimo incendio non fa altro che confermare l'ipotesi che dietro ai roghi di questi mesi ci possa essere una regia criminale, come ipotizzato dal sindaco di Ventura. L'incendio segue infatti di pochi giorni quello del centro di conferimento rifiuti di Contrada Calandra che era stato posto sotto sequestro. Il sindaco di Ventura, dopo questo episodio, aveva lanciato un appello alla prefettura chiedendo di occuparsi del caso rifiuti a Canicattì. Sabato notte il nuovo inquietante episodio è un rogo a tutti gli effetti di natura dalosa quello che si è verificato la notte scorsa ed ha distrutto cinque mezzi essenziali per il regolare e quotidiano svolgimento del servizio di raccolta di rifiuti a Canicattì. Ribadiscono le ditte del raggruppamento di imprese che hanno in appalto il servizio di raccolta differenziata in città. Evidentemente, spiega l'amministratore unico della SEA Gianni Mirabile e alla luce di quanto continua ad accadere periodicamente ci viene da pensare che siamo noi aziende a non essere ben volute a Canicattì. Tutti questi episodi stanno accadendo proprio quando la situazione del comparto rifiuti era tornata ad una sostanziale normalità a dimostrazione che c'è qualcuno a cui non piace e che siamo noi a gestire il servizio. Gli ignoti malviventi in questa ultima occasione hanno incendiato due mezzi lift che servono per la movimentazione dei cassoni scarrabili e presse ed una spazzatrice di ultima generazione oltre ad altri mezzi più piccoli proprio per mettere in difficoltà le imprese nel rispettamento quotidiano del servizio. Ci uniamo al grido d'allarme lanciato nei giorni scorsi dal sindaco Ettore di Ventura aggiunge Gianni Mirabile che ha chiesto aiuto alle istituzioni per quello che sta accadendo a Canicattì che si sta trasformando pericolosamente in una sorta di terra dei fuochi con ripercussioni gravissime per la salute dei cittadini. I luoghi di rifiuti, come ormai tutti sanno, producono diossina che a sua volta provoca malattie cancerogene e mortali. La situazione è molto delicata e come azienda non possiamo che chiedere l'aiuto delle più alte autorità competenti.